Samsung Aspirazione, con questo articolo si è aggiudicato un voto finale di 8.8 su 10. E' al momento il più votato con 114 valutazioni per questa categoria. I suoi punti di forza sono. Potenza di aspirazione. Ottimo rapporto qualità prezzo. Leggero. Durata della batteria. Se ti interessa questo prodotto e vuoi saperne di più o semplicemente vuoi conoscere il suo prezzo, clicca il link che trovi in basso nella descrizione del video. Samsung Aspirazione ha realizzato un prodotto a cui abbiamo aggiudicato un voto complessivo di 9 su 10. Risulta essere il migliore di questa selezione. Le sue funzionalità sono. Potenza di aspirazione. Ottimo rapporto qualità prezzo. Durata della batteria. Leggero. In basso, nella descrizione di questo video trovi il link per avere maggiori informazioni o consultare il prezzo aggiornato di questo prodotto. Il voto finale assegnato dalla nostra redazione a questo prodotto di Samsung è di 7.6 su 10. Risulta avere il miglior rapporto qualità prezzo. Si tratta di un prodotto molto efficiente e versatile che offre prestazioni uniche. Se vuoi avere maggiori informazioni e vuoi conoscere il prezzo di questo articolo, clicca il link che trovi in basso nella descrizione del video. Il voto complessivo di questo articolo di Samsung Aspirazione è di 7.6 su 10. Risulta al momento essere il più scontato di questa selezione. Questi sono i suoi punti di forza. Facile da pulire. Ottimo rapporto qualità prezzo. Potenza di aspirazione. Comodo. Controllo remoto. Durata della batteria. Il prezzo di questo articolo, insieme a maggiori informazioni è consultabile attraverso il link che trovi in basso nella descrizione del video. Samsung Aspirazione ha realizzato un prodotto a cui abbiamo assegnato un voto di 8.8 su un totale di 10 punti. Risulta al momento essere il più venduto online. I punti di forza sono. Comodo. Leggero. Potenza di aspirazione. Durata della batteria. Puoi acquistare questo prodotto o scoprire maggiori informazioni cliccando sul link che trovi in basso nella descrizione del video. Grazie.